che poi alla fine se un giorno che non lo utilizzerò più al limite rompo un testa e magari c'è un problema Grazie a tutti Eh sì ragazzi come avete visto è un bel mattoncino perché parliamo se chiaro pesa Io adesso non ho ben precisa l'idea di quanto possa pesare ma penso che abbondantemente sta sul chiletto non lo so dovrei pesare però è una 26.800 mAh con pannello solare di ricarica quindi voi la mettete all'aria aperta sotto sul parabrezza della macchina come faccio io me la ricarico c'ha doppio led per qualsiasi vostro utilizzo durante la notte se dovete fare luce c'ha l'SOS con l'alfabeto morsa visivo un comodo per chi fuma io non fumo accendi sigari e le prese USB ovviamente due prese USB classiche una micro USB e un USB tipo C perché l'USB tipo C e il micro USB qualsiasi cavetto voi abbiate per il telefonino va bene per ricaricare questo bellissimo powerbank quindi voi ricaricate il powerbank attraverso la micro USB o l'USB tipo C avete due uscite USB classiche avete l'accendi sigari avete i led avete il pannello solare avete 26.800 mAh per ricaricare tutte le vostre periferiche potrebbe essere un cellulare potrebbe essere un smartwatch potrebbe essere una macchina fotografica una videocamera potete collegarci la vostra gopro per i timelapse per lasciarla ascesa tre giorni a fare timelapse giorno e notte giorno e notte costo era in offerta non so se è finita l'offerta o se è rimasta intorno alle 23 25 euro su amazon vi metto il link in descrizione quello che lo vogliate acquistare ve l'ho voluto far vedere perché è un oggettino da avere io lo sto stressando da stamattina e siamo ancora al primo led lampeggiante quindi diciamo che ci ho ricaricato il cellulare ci ho ricaricato lo smartwatch del samsung va bene è ottimo c'ha il suo cancetto per essere collegato alla cintura da qualsiasi parte che vogliate ragazzi secondo me è un oggetto da avere poi forse ho fatto perdere tempo e allora niente fate conto che non vi abbia detto niente tanto i mogli ci sono stata una sigaretta e c'è salsa a fumare io vi ho detto il giorno che non lo userò più io rompo in testa e mi sono cacciato due problemi uno che non uso e l'altra che non si sopporta non si sopporta